Si tratta del rumor più chiacchierato delle ultime ore, la fashion designer, coinvolta in prima persona, ha commentato la vicenda. La relazione amorosa tra Rihanna e il compagno Asap Rocky è al momento al centro dei gossip più infuocati. Nella notte italiana tra il 14 e il 15 aprile 2022 si è sparsa la voce riguardo un presunto tradimento da parte del rapper ai danni della cantante di Barbados, che al momento è incinta. Fatto ancora più grave, secondo le malelingue il padre del primogenito della 34enne l'avrebbe tradita con Amina Muaddi, nota designer di scarpe che ha collaborato con lei per la linea di calzature del suo brand Fenty. Dopo ore di silenzio da parte dei diretti interessati a fare chiarezza è stata proprio la terza incomoda. Amina Muaddi, shoe designer delle più celebri star dello showbiz internazionale, è la donna con cui, secondo i gossip, Asap Rocky avrebbe tradito la sua compagna Rihanna. La stilista di origini Giordano Rumene ha pubblicato, nel tardo pomeriggio del 15 aprile 2022, una storia Instagram attraverso cui ha smentito categoricamente i rumors. La Muaddi ha descritto la notizia che si è subito diffusa da una parte all'altra del globo come, una pessima bugia infondata, dicendo che sperava cadesse nel dimenticatoio autonomamente. All'inizio pensavo che questo gossip fake, fabbricato con un intento così malizioso, non venisse preso sul serio, ha scritto. Purtroppo, però, nelle ultime ore le speculazioni sul fatto sono aumentate, costringendo la stilista a fare la precisazione che tutti aspettavano. Amina ha così criticato i media e la società in generale, viviamo in una società che non perde un attimo a parlare di fatti che non hanno nessuna base fattuale, in cui niente si ferma a un limite. Neanche in quello che dovrebbe essere uno dei periodi più belli e celebrati della vita di qualcuno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.